I casi di Covid tornano a salire con il numero dei positivi in forte rialzo. Un'inversione di tendenza provocata dalle varianti Omicron 2 e Omicron 3 che stanno mostrando una contagiosità del 30% superiore rispetto alla sorella Omicron 1. Per capire se ci aspetta uno scenario simile a quello di questo inverno o se invece possiamo stare più tranquilli, ne abbiamo parlato con uno dei massimi esperti virologi in Italia, il professor Matteo Bassetti. Possiamo parlare di una nuova ondata? Io direi che di ondata non si può parlare perché le ondate precedenti sono state ondate di ricoveri ospedalieri. Nella realtà questa è una recrudescenza di infezioni che per la maggioranza si vivono a casa e quindi sono decisamente meno gravi rispetto a quelle che vedevamo anche solo tre mesi fa. Prova ne è che se lei guarda il numero di ospedalizzazioni anche oggi c'è sempre un segno meno davanti alle terapie intensive. bisogna sicuramente avere cautela però credo che grazie alla grossa protezione vaccinale che abbiamo in questo momento in Italia che è superiore al 90% ci consente di vivere questa fase di tantissimi contagi in maniera più tranquilla. Se noi di colpo domani smettessimo di fare i tamponi probabilmente il problema sarebbe in qualche modo risolto. Credo che dovremmo andare nella direzione di una gestione forse diversa di questa fase del virus rispetto a quella che abbiamo avuto fino ad oggi. Tutti questi tamponi forse non ci stanno aiutando. Il professor Bassetti sottolinea la necessità di effettuare una dose di richiamo per tutti il prossimo autunno. Prima del prossimo inverno sarà bene che con un vaccino modificato sulle basi delle varianti se arriverà ci faremo una dose di richiamo che sarà a questo punto a distanza di un anno dalla terza dose quindi non è la quarta dose precoce che ha fatto Israele che ha dimostrato di non funzionare è una dose di richiamo. Questo virus purtroppo, questa variante Omicron 2 in qualche modo buca buona parte dei sistemi che noi utilizziamo perché le persone che si contagiano hanno usato la mascherina si sono lavate le mani, si sono distanziate fortunatamente né Omicron 1, né Omicron 2, né Omicron 3 bucano il booster di vaccino e quindi in qualche modo chi è vaccinato oggi fondamentalmente non ha sintomi di una malattia grave.